Ciao a tutti, benvenuti sul canale Muay Thai e Nak Muay Stories. In questo video il forte Rung Narai Kiat Mukao. Rung Narai nasce il 17 maggio 1995 ed inizia ad allenarsi a 8 anni. Dopo qualche giorno dall'inizio dei suoi allenamenti fa il suo primo match e lo vince. Inizia così ad allenarsi e combattere per il famoso campo Kiat Mukao, seguito dal forte maestro Mr. Jai. Rung Narai è un Nak Muay di enorme talento, un forte FEMU. Ha un grande senso tattico, tanto che riesce a destabilizzare i più forti campioni. Ma ha anche un grande punto debole, un mento molto fragile. Infatti subirà qualche KO. Rung Narai nel 2013 vince il titolo di campione italianese nelle 108 libri. Nel 2016 conquista il titolo del Raja Daman nelle 108 libri, battendo il forte Satan Muang Lec. Nel 2017 diventa campione True For You nelle 112 libri, battendo Palancon Peccinde. Nel 2018 conquista il titolo del Lumpini nelle 115 libri, battendo un altro fenomeno del ring, Jomod Eminentire, e sempre nello stesso anno conquista un altro titolo True For You nelle 118 libri, battendo Jason Lec vor Vanachai. Rung Narai combatte 156 match con 118 vittorie, 33 sconfitte e 5 pareggi. Ma questo forte campione è anche protagonista di un evento spiacevole e unico nel suo genere nella Muay Thai. Nel 2019 riceve il famoso premio e il più importante premio nella Muay Thai, quello di miglior combattente dell'anno dai giornalisti sportivi thailandesi. Era il titolo di miglior combattente dell'anno 2018. Lo riceve nel 2019, ma qualche giorno dopo, il 5 luglio 2019, perde per KO contro il forte Yotin FA Group. E così la commissione decide di ritirargli il premio di miglior combattente dell'anno. Questo è stato un evento unico nella storia della Muay Thai. Il 2018 non ha nessun miglior combattente dell'anno. Ma a parte questo evento, Rung Narai è stato un grande esponente della palestra a Kyat Mokau. E' un forte campione e vi consiglio di andare a vedere tutti i suoi match che se ne trova diversi su YouTube. Se il video vi è piaciuto e ne volete sapere di più sulla Muay Thai, iscrivetevi al canale, condividetelo, mettete mi piace e al prossimo video. Ciao a tutti!